Allora nel giorno qui della bellissima presentazione di questa tendo struttura Tendo Struttura Tendo Struttura per gli ingegneri Un ambiente bellissimo, siamo con il presidente Claudio Polonia Allora innanzitutto parliamo di questa struttura, a cosa deve servire, per cosa nasce Questo è un centro di aggregazione per tutti i fruitori della struttura sportiva e dei prossimi campi da padolo che verranno realizzati E' stata realizzata per dare l'opportunità a tutte le famiglie di aggredarsi e vivere il calcio in una maniera familiare, non soltanto con gli studenti E' un punto dove verranno fatte anche tanti studi Inoltre c'è il servizio di un servizio di dopo scuola per i bambini Quindi le famiglie che vogliono portare i bambini qua avranno anche la possibilità di fare i conti di quando arriveranno a casa due di tassina, non devono più stressarsi per fare i compiti ai figli perché avranno a disposizione questa struttura E basta, questo è qua Poi abbiamo ufficializzato anche con la Talanta Ecco, questa è la seconda cosa, questa è la sorpresa del giorno Si è stato portato stamattina Ecco, questa affiliazione che noi avevamo preannunciato Avevamo parlato di un prezzo di siaria Abbiamo ufficializzato il contratto Quindi la Talanta tramite il San Giuliano Tramite il San Giuliano che è stato punto di riferimento e di contatto con la Talanta Ci ha dato una mano per chiudere questa affiliazione in linea diretta Quindi non una subaffiliazione ma direttamente con la Talanta E ci porterà tantissime opportunità di crescita sia per gli istruttori E sia per la visibilità dei nostri futuri calciatori Insomma, anche la soddisfazione di cominciare veramente a ragionare A fare calcio in maniera seria In maniera seria e in maniera professionale Quindi mi sembra che qui a San Cassiano Stanno uscendo un bel progetto Che era quello che ce l'avevamo detti a Corfino a luglio dell'anno scorso E sta cambiando un po' il voto di tutto questo ambiente Adesso poi c'è a bilapato C'è a bilapato Poi ora si ragionava Anziché partire col progetto del Torifaro a febbraio Si partirà con i due campi in sintetica Per dare l'opportunità Vista anche dell'affiliazione E della cosa che ti annunciavo prima Che ti dirò la settimana prossima Che sarà la notizia di gennaio Avremo questi campi in sintetica In modo tale che i nuovi istruttori Potranno lavorare su un campo più adeguato Rispetto a queste merda E quando piove purtroppo Ha le lacune di tutti i campi in mano Benissimo Quindi chi vorrà venire E poi c'è la sorpresa estiva Questa la diremo nel mese prossimo Certo Per l'estate qua Sempre qua a San Cassiano Cosa succederà ma preparatevi Le novità non sono mai poche con noi Qua non si dorme No assolutamente Benissimo Claudio Complimenti a te Grazie a tutti i tuoi collaboratori Per quello che c'è Il lavoro è un lavoro di team Quindi ringrazio principalmente Ai collaboratori Che ci stanno seguendo E ci stanno dando il giusto supporto E ci stanno dando il giusto supporto Grazie